E' orribile cosa sia diventato lui. Piango per la vostra generazione. Cercasi agenti per insolita indagine soprannaturale. Nome? Lucy Carlyle. Sono Anthony Lockwood. Lui è Giorgio. Benvenuta da Lockwood. Andiamo a cercare questo visitatore. Non devi muoverti. Fuori. Non mi piace incontrare agenti che bruciano le case dei clienti. Paghi o verrete chiusi. Londra sarà una città più sicura con il giro tra il compito al team. Le grandi agenzie vogliono avere il controllo della situazione. Ok, e adesso? Ci serve solo qualche caso importante. In un paio d'anni saremo le agenti più famose della nazione. Lavoro con dei pazzi totali. Voi siete bloccati nell'ingranaccio. Schiavi di un sistema gestito dai ricchi. Avete a che fare con criminali. E' un'altra parte inizia a raccogliere. Tutti i cacciatori di Londra vogliono uccidere. Il potere del padrone non può restare sepulso. Moriremo tutti. Ci sono i fantasmi. E ci siamo noi. Si tratta di uccidere o di essere uccidi. Sta arrivando la morte. Siamo la Lockwood e Co. Tu, io e George. Ci sono i fantasmi. Ci sono i fantasmi. E' un figlio di Londra. Fai palavras. Grazie a tutti